Impressioni del sesto concorso motonautico del Garda che ha visto fra l'altro l'affermazione del conte Teo Rossi di Montelera che ha conquistato la coppa dell'oltranza offerta da Gabriele D'Annunzio e un brillante debutto di Varsi che ha vinto la coppa Duca di Spoleto alla media di 87 km orari mentre Nuvolari arrivava secondo. Grazie a tutti! Un episodio fuori programma, un incidente capitato a Castiglioni durante il secondo giro della corsa per la coppa Montelera dei Tre Lippi che fortunatamente non ha avuto conseguenze.